Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. La mano invisibile della criminalità attirare i fili in alcuni ambiti della scena politica di Nocere Inferiore. In estrema sintesi, questo è ciò che è emerso dall'inchiesta culminata con l'operazione dei Carabinieri del Ross dello scorso 21 agosto. Al centro della vicenda c'è Antonio Pignataro, ex cutoliano nonché assassino di Simonetta Lamberti, undicenne uccisa a Cava dei Tirreni nel 1982. Pignataro, a cui qualche anno addietro furono concessi domiciliari per motivi di salute, infatti avrebbe perseguito l'intento di creare una nuova cellula di un disciolto clan, al fine, come sostenuto dal GIP Bernie Canani, di rinnovare il suo potere sul territorio e quindi sostituirsi allo Stato, condizionare le decisioni della pubblica amministrazione e risolvere conflitti con spedizioni punitive. Un episodio cruciale che precorre le elezioni amministrative dello scorso giugno concerne le pressioni esercitate affinché venisse approvata la delibera sul cambio di destinazione urbanistica del suolo situato in prossimità della chiesa di San Giuseppe, in via Montalbino, per la realizzazione di una casa famiglia, come emerso dalle intercettazioni preoccupati per eventuali ritardi nell'approvazione della Le Libera, poi avvenuta lo scorso 16 maggio, determinati dalla volontà del sindaco Torquato di ottenere un visto formale del Vescovo, erano altri due uomini che un ruolo chiave avrebbero rivestito nella banda, Ciroa Eboli e l'ex consigliere comunale Carlo Bianco, che grandi pressioni avrebbe esercitato in tal senso. L'operazione, infatti, sarebbe stata finalizzata ad acquisire un importante bacino di voti per le elezioni amministrative di giugno, che hanno visto candidati ma non eletti Carlo Bianco in sostegno di Torquato e Ciro Eboli nella lista di Pasquale Dacunzi. A far discutere anche la posizione del neoconsigliere Nicola Maisto, candidato nelle ultime elezioni in sostegno di Torquato, e che dovrà rispondere dell'accusa di corruzione elettorale aggravata, in quanto avrebbe ricevuto alcuni voti a pagamento, mediante Luigi Sarno. A qui dal boss Pignataro era stato affidato il compito di gestire l'attacchinaggio. Alla luce dei fatti, in molti hanno già paventato l'ipotesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Nocere Inferiore. Anche la CGL ha sottolineato la necessità di fare chiarezza e ripristinare la legalità e la democrazia, mediante il commissariamento del Comune. Torquato, invece, è d'altro avviso, convinto che il risponso delle urne, che è stato estremamente ampio, sia indipendente da questi episodi.